Dove stiamo andando, Ornstein? Moog, se vuoi essere un cavaliere di Gwyn, devi smettere di mangiare uomini. Ed è per questo che voglio mostrarti il duro lavoro di chi dà vita alla nostra Norlondo. Beh, o almeno così era un tempo. Eh? Cos'è quello? Oh, oh no! Non di nuovo! Lavoriamo duro! E lo facciamo duro! No, 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 no! Ornstein, perché mi hai portato in un borgo gay? Io non lo so! Smog, non guardare, Smog! Non guardare cosa? Wow! No! Oh! Grazie a tutti.